A dieci anni dall'undici settembre, dopo due guerre, leggi repressive in tutto il mondo e centinaia di migliaia di morti, Al-Qaeda non è stata ancora sconfitta. La guerra del terrorismo è una lieve. La guerra del terrorismo è una fischione. La guerra del terrorismo è una fischione. È un concepto false. Abbiamo creato più terroristi con la invasione di Iraq che non ha mai esistito prima. La guerra del terrorismo è una fischione. Un gruppo sovversivo che mira all'insurrezione, che utilizzano metodi assolutamente illegali, illegali, anticostituzionali all'interno di questi ministeri principali. è www.newamericancentury.com Departamento di Stato, la CIA, FBI, NSA, National Reconnaissance Office. La guerra del terrorismo è una fischione di migliaia di migliaia di migliaia. La guerra del terrorismo è una fischione di migliaia di migliaia di migliaia. La guerra del terrorismo è una fischione di migliaia di migliaia di migliaia di migliaia di migliaia di migliaia di migliaia. La guerra del terrorismo è una fischione di migliaia di migliaia di migliaia di migliaia di migliaia di migliaia. Il Sahara è diventato, durante qualche tempo, un territorio americano. Chi controlla l'energia mondiale ancora oggi non controlla il mondo. Tu devi creare una malattia. Se vuoi attivare gli anticorpi, devi creare i corpi, i corpi malati. devi creare dei bacilli, dei batteri malati che infettano l'organismo e automaticamente l'organismo emette questi anticorpi. La grande quantità di migliaia di migliaia di migliaia era in un modo o in un modo in un modo finita in gli Stati Uniti. C'è stato usato, come ho indicato a te prima, c'è stato usato per pagare le lezioni di migliaia 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 di migliaia. Non posso escapare questa conclusione perché ho una copia di una città. Dall'autore di Zero, un'altra grande inchiesta, realizzata in oltre 30 paesi di cinque continenti. Benvenuti nell'oscuro mondo di Al-Qaeda. Grazie. 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 Grazie.